Buongiorno a tutti ragazzi, diciannovesimo capitolo di Uncharted, siamo nell'avisto, sarebbe la via di fuga di Avery, della sua villa, e dobbiamo vedere dove porta magari ricuace il tesoro, esatto, recenti, giusto ci hanno anticipato come al solito, seguiamo le tracce e che cavolo, che devo fare? Ah ecco, dovevo sbattere il joystick, c'è mi ha preso una sprovvista sta cosa, esatto, dinamite, infatti, o sono mercenari e amiche scienziati, ancora, è tipo telecomando, tu non cambierai mai le batterie, vai avanti a sbatterlo, cosa? No, c'è gente impalata, ma no, non è mortale, tracce, tracce, ok, visto che Sam l'ha già fatta una volta, ok, segui, 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 infatti segui l'imbrondo e andrà tutto bene, fatto, per fortuna, non è che si fermano, è che è crollato il passaggio, quindi giro largo, infatti c'è un passaggio, eh, c'era, un passaggio, io direi di, questa è una leva, ah no, è una torcia, e vabbè, qua tutti i passaggi sono crollati, guarda caso, ah già, tracce, tracce, proviamo ad andare su, che ne so, oppure, vabbè, anche, era così facile, bastava, e dare qualche roccia, pesante, qualche tonnellata, ma non è niente di che, ah, non solo, non ci siamo riusciti, ma abbiamo peggiorato, proprio benissimo, si va di bene in meglio qua, eh già, pensavo a chi è di andare da su, no, ancora, dai, accenniti, si, il rumore sono io che sbatto il joystick, sulla mano, eh, non va, ah, ben armati accendini, ma non è morta la cosa, dai, un accendino, cavolo, una ciminiera, fiammiferi, ah, beh, si va avanti i fiammiferi adesso, e allora, oh che cazzo, sto aspettando, allora, di qua dove che non vedo, che è successo, ma sono morto, ma che cazzo, oh, qua si muore per niente, dove mica sono finito, boh, si è buggato, si, si, boh, eh si, avevo, avevo pianificato di andare là, dai, ho lanciato la torce in alto o no, visto, ecco qua, ce la fai, ok, ci tocca andare avanti a torce, si, si, lo so, lo so, sono abituato a sti tunnel, niente, va un culo, io rotolo, anche se mi do fuoco, attenzio, buco, che cosa, cosa mi chiede sta roba, non è delle specie di, cosa, sono le braccia dei coloni, mi sa, si, piuttosto inquietante come cosa, erano psicopati con sto Avery, piccolo cieco, eh già, cieco perché non ci vede, dai, leo ti, sembra in mezzo come, come dogmiti di Fallout, 4, oh, scusa, esatto, però ti fa sentire, a sbastarlo tipo, ok, cosa, cosa, cosa minchia era, scusa, che è, oh, mummie che esplodono qua, una circola, ho salito sul perché, che non lo so, esatto, che cazzo sono, cadavere esplosivi, no, aspetta, no, io non mi fido, eh, Mario, non mi fido di questa roba, cazzo sono preso male, ah, li han trovati, eh già, ah, però ma com'è fatto a, a fare delle bombe qua, con che meccanismo, o ce la fai, ecco, io spero non ce ne siano anche, cos'è, cos'è questo, eeeh, cos'è, cos'è, di, art, ah, che cavolo, ah, vabbè, si dopo un po', no, dopo un po', però, eh, quindi, erano i cuori, si, ok, ma, ma, stai in mezzo, stai in mezzo, eh, grazie, bravo, eh, per coglione, che cavolo, più grande pirata, ma che bravo, nascondere le cose, altri, altri talebani, che, che esplodono, ottimo, aereo, mi butto in acqua, io, altro che, all'avvo, sono ancora vivo, si ma, da una parte non esplodono, dall'altra esplodono, non si capisce un ca- oh, 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 col ca- non credo fa perché faccia bene questa non esplode ma non hanno qualche raduto è un esempio cosa devo tornare su ok di qua l'era vuoto e comunque ste momie ste momie stile allac bar non mi piacciono cosa cavolo è ahhh calmati tu qua mi puoi un risone la forza di calmati tu voi non lo sapete ma di qua vediamo eh già ok se seguiamo la pista eviteremo tutte le momie per fortuna oh che cavolo aspetta ho ancora mitraglione pensavate che fossi pensavate che non fossi armato venite qua venite qua sto aspettando questi di merda come non oh non finite per il culo ah ecco ah ha cambiato il riparo anch'io morti qua è vuoto sparata a caso wow cechinato non è non è così facile coppia red che è eccola qua questa qua spara che è una meraviglia neanche il tempo di reagire che è già morto ok eh cazzo ma scusa perché prima non esplose che erano ma scusate ma se erano già là davanti come mai non esplose prima è ultimamente che non sono abituato a queste esplosioni bene ora questa pistola si è sempre utile niente di qua di qua di qua sempre meglio controllare ok giù morto no ah ah mio amico come mai non è morto che è successo fatto ora le munizioni diamo un po' a smascellare tutto così ok andiamo avanti chissà quanti ci sono cascati quali le munizioni mi sa che siamo i premi antisecondi ho paura ho paura vieni qua davvero eeeh bloccato cosa fa? devi sentare in avanti riproviamo riproviamo un altro giro di qua probabilmente si si vede una spade già ah non erano quelle mani così colonie erano quelle cose dei soldati itiu eeeh una testa cosa cavolo non è sembra una chiave è una chiave ma c'è anche un messaggio cosa dice? tenente avarto il cavolo salpare che cazzo però aspetta capito buona foto aspetta si ok ma che cazzo no aspetta gira gira ok teniamoli si ok mostra storia del gira gira non mi piace c'è non mi piace quindi e si gira intorno sbagliato andiamo di qua oh mie cazzo rola questo non è esploso per fortuna eeeh che cavolo è sembra capodanno qua esplode tutto fortuna che sono che ormai sono scalete sennò varrebbe fuori una scena degna di di soul enigmista già per noi ho aspettato un po' di tutto appena in te un po' no non fa bene ma rispia sta roba ah darei un 3 su 10 3 su 10 aspettate eee niente e tesoro per fortuna cosa cavolo è un un bong scendendo mi sa che qua andiamo al centro della terra ok no questa volta no siamo salvati siamo salvati allora io non provo eh cosa facciamo esatto esatto stavo pensando anch'io a quello ah questa qua era insieme gira che simboli corrispondono a quelli sui tanti ma lui aveva spiegato ai tuoi uomini come superare le tracole non allora averi quella di averi la quella della nave su su quella di cosi quella di averi mi sono già dimenticato tutto gira no no la è g gira quella di averi in basso a destra gli altri su si non è difficile questo che cavolo è ah aspetta aspetta no era qua eh no non era qua mi sa che avrei detto male infatti avevo già pensato cosa ah e si ho sbagliato io ok qua e poi qua fin qua ce l'abbiamo fatta ah quelle delle crociere qua dai però ok ho sbagliato tutto ah simbolizzava la trappola no dove devo andare avremmo su un pirla ah e ma io pensavo vai la che cazzo ok quello di sandismo è il più difficile c'è la croce la quel che è comunque la croce la croce uno due questa qua ok 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 io direi sì lo so il suggerimento lo so cosa il cavolo è questa ok quella di avere quella in basso no questo tizio aspettate è quella di quella in fondo quindi no questa uno due basta quella quella in fondo qual è quella delle no allora qua no qua neanche e proviamo perché non capisco un cazzo ok ok no aspetta aspetta ok morte 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 quindi qua decisamente aspettate aspettate ok 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 mentre quelle delle croci la morte 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 ok sì però sono circondato mentre quello che cavolo è quello in alto si involleggiava la morte dobbiamo saltare ma salta cazzo so il suggerimento lo so qua si muore quella di cosa dall'alto ah e porca troia sumpirla io ok eh 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 ok dunque questa qua dovrebbe essere ok quella della croci invece questa qua quella è quella delle navi quindi quindi no quella dell'alto è la trappola che direi qua questa invece aspettate questa è quella quella partiamo se quante volte sono morto ok aspetta che la è un piccolo secco eeeh qua va bene e qua anche qua dovrebbe andare bene lo stesso qua va bene quella croce di sandys no? ok quindi questa è manomessa questa no oh che culo oh che culo quanti quanto tempo ci abbiamo messo? mezz'ora minimo eh via d'uscita tocca farlo questi sono i detti degli uomini di tipo quelli che restano ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo di muoverci con cautela giusto che posso mi sembra allora per me questo esplode tutto tutto ma tutto esplode anche il gioco chiave esatto è una trapola oh se è una trapola è una trapola moriamo tanto senti la chiave c'è per un motivo no? ok fin qua è una porta normale indietro pom morto hai visto? pa cosa? non è che avresti un coltello vero? no ma quel tizio ha una spada ecco aiutami cioè ho piano piano qua le mummie e dietro e mo se non la prendo la ammazzo ah dovevamo mettere il triangolo ho preso come è mancato oh sei stupido si si così proprio tipo taglio il prosciutto così ho fatto ho fatto andiamo via via oh cosa e che oh ho con karma oh le sto prendendo tutte possiamo andarcene senza buongiorno buongiorno ci provo si sono riuscito questo era un moto ok abbiamo finito finito le mummie però dissi che cavolo non ho voglia di no? ario cosa? ti ha trovato tutto si ok pareggia tutto si non sono l'unico si non sono l'unico cosa? ok spero non arrivi dopo adesso i mercenari che che non è il momento migliore si ok ma provi a rovinare un momento lo sapete fare perfettamente cosa? un rpg? no senza via di fuga ma la via di fuga la troveremo nel prossimo episodio che non sarà questo quindi ci vediamo alla prossima volta ciao